Per respiro, perché sono in debito di ossigeno da circa un'ora, da quando ho preso in mano la scaletta, sono molto emozionato. Non mi capita spesso, sono abituato a farlo in pubblico da tanti anni, ho presentato tante manifestazioni, ma mai una così importante. Sono i 50 migliori ristoranti italiani, i migliori ristoranti italiani nel mondo che ci rendono orgogliosi. Sono felice perché parliamo di cucina ma parliamo di cultura. Ogni singolo prodotto agroalimentare, ogni singolo vino, ogni singola birra, così come i piatti che vengono realizzati da questi campioni, sono progetti culturali, opere d'arte dell'uomo. E allora quando io divento il portatore d'acqua per questi grandi artisti e artepici della nostra ricchezza contemporanea, sono estremamente lusingato e felice, di conseguenza mi diverto. Grazie per la visione!